Ora che le nostre coppie sono in procinto di partire per i loro viaggi di nozze, preghiamo. Fosca, ti è stata fatta una domanda educazione rispondere. Ma che te sei ingrassata tardi tu? Può essere. Ma che sei scemo! Ma non era visto so sassi! Fosca, non mi avevi detto che avevi un ponte. Che c'ha mente, ma... Ufamo, strano. Se io penso che a quest'ora noi dovevamo stare dunsi davanti a una grigliata berbera, invece ci troviamo davanti alla tazza del cesso. A far vomitar tua sorella io la trovo una cattiveria. Ma tu una cattiveria che... Pronto? No, non mi disturba il fatto, mi dica. Ma questo muco lei me lo fa prima o dopo l'evacuazione? Ma come fai a mangiare la torta cagum? Ah, so distingue. Mi ce sa pure sposata cagum. Mi dai qualche secondo di concentrazione onde avere un'eccellente lezione? Sul capello poi sta, ho detto tutto. Sii siamo tagliati, sii siamo rapati, sii siamo stirati, sii siamo bruciati, sii siamo tinti, sii siamo lavati. Infatti. Ma l'hai capito, non l'hai capito, che la cosa è gravissima! Non vorrei che avessimo commesso un passo affrettato. Dighi! Oh, famo strano! Famolo!